e ciao a tutti quei frane che parla oggi sono qui a presentarvi un altro video oggi siamo ritornati con la perquilo e stiamo registrando questo video molto tardi non dobbiamo registrare un altro perché i server di dead hanno avuto problemi pare che funziona a quanto pare anche sul telefonino però non ci abbiamo fatto caso perché dovevamo registrare ma alla fine poi dovevamo mangiare quindi non è funzionato comunque giriamo la ruota vediamo un po' cosa capita allora queste sono le mie competenze vediamo qual è la prima si parte con mettiti alla prova un attimo che abbassa il volume la mia prima competenza è mettiti alla prova poi vado per la seconda vediamo un po' che cosa esce molto no liberazione ok vado per la terza competenza vediamo 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 oh no questo non mi piace per niente ok vado per la quarta competenza sono molto felice adesso spirito calmo vabbè bella storia che mi hai dato beh qualcosa di diverso dai vabbè adesso tocca a me adesso tocca a lei adesso vediamo le sue quattro competenze click to spin qualcosa di bello ti prego vediamo un po' vediamo un po' si parte con convalescenza per poco eh vabbè dai ti curerò io al massimo con convalescenza se mi fai qualcosa poi ci faccio qualcosa si poi seconda competenza le ali le ali non mi dispiace le ali non sono male soprattutto con i 110 perchè andare a 107 non c'è molta cosa quindi si riesce a fare molto vediamo qual è la terza competenza intuizione del detective meraviglione leader non sarebbe stato male eh con la cura vediamo qual è la ultima competenza dai ti prego si qualcosa di bello vediamo qual è l'ultima competenza numero 4 colpo di fortuna non fa schifo dai forse sono adatta meglio di te vabbè dai remove name clicchiamo qui ok questo è l'arsenale che ci è capitato e adesso ci vediamo in gioco ok ecco qua accettiamo l'invito vediamo un attimo che cosa è uscito fuori ma da quello che ho visto è uscita un'emerita vomitata allora ci sta deriva ragazzi già sapete cosa faccio la fortuna un salvataggio sicuro e poi non posso curarmi per un minuto poi ci sta questo che mi da il 10 per cento di velocità in più di riparazione quando c'è qualcun altro vicino a me che lavora anche se da quello che ho visto degli errori basta che sta vicino l'importante è che non lavora credo oppure no mi ricordo vabbè e poi ottieni il cento per cento di punto sangue in più quando si fanno le cooperative poi c'è l'oggetto dell'ossessione io vedo lui lui vede a me fino a un certo raggio e poi c'è spirito calmo che mi permette di non allertare i piccioni quando ci passo vicino e in più supera l'impulso di urlare quindi se c'è lo shock del dottore le boccette del clown e non quando mi dai il colpo il killer e non mi ricordo quale altre situazioni le sue competenze sono ali convalescenza colpo di fortuna intuizione del detective che sarebbe 7 per cento di velocità di movimento in più appena appena viene fatto l'ultimo gen per due minuti intuizione del detective ogni volta che viene fatto un gen da qualsiasi persona per 10 secondi fino a 64 metri gli viene rivelata l'aula di generatore casse e totem poi ci sta convalescenza che praticamente permette di vedere la gente se lei li li libra dal gancio viene liberata oppure se è cura o viene curata e poi ci sta colpo di fortuna che per un massimo di 180 secondi può dividersi la competenza per varie situazioni non lasci sangue che è molto bella come cosa io mi metto questo per fare due spiccetti non ho voglia di partire oggetto quindi non mi importa e ci vediamo in partita ok sta per iniziare la prima partita ovviamente non è il primo tentativo ci sta un'alzolina leggermente prestigiata con la torcetta sta il classico quentin spiegato c'è un bel mori per completare il tutto c'è un bel mori un festone ci sta Adamfield e ci vediamo nella prima partita praticamente finito vediamo tra quanto inizia la partita e quanto dobbiamo aspettare come al solito viva mori lankin lane Adamfield cerchiamo di aggiustare su poi io ho oggetto della sessione perchè non mi piace per niente c'è stato un ace giusto? un ace no no qua ci sono un quentin e un alzolino prestigiato ok e chi che c'è stata posta? niente qua mi hanno bloccato il gene se blocca il gene ah pure? già questo è bloccato questo è bloccato io non vedo il gene è talmente distante un altro sterte ma è possibile? sarà uno spettro tutti sterte sono chi è? ghost per forza? è Myers un'altra volta sì stavo spaccando il totem era completamente finito hop ah con le cuffie non le hai sentite? perché lui si sente fa no non l'ha sentito per niente ehm invece ho sentito i passi di quentin che mi era vicino che camminava e lui non l'ha sentito madonna no ma adesso no abbiamo giocato poco fa con Mario perfetto ammazza sto dancio forse ma corre se ho sentito cliccare in un certo momento e io clicco sempre faccio tic tic ma questo è rimasto all'uno sei liberato da solo ma vedi che i ganci fanno cose strane lei mi sta curando e perché ti sta curando? cosa c'è di strano al cuore? è che quello è appeso e è subito liberato all'istante che caspita non sto capendo aspetta non ho capito ah appeso quell'altro e già ho sotto cosa vuoi fare e sei subito liberato cosa sta facendo? allora non ho capito perché ero distratto mi vuoi ripetere ah finalmente è appeso quello e all'istante si è liberato non finisce mai io sono più piano sono bloccato ok sono vivo nel mare la partita possiamo buttarla tranquillamente questo è sicuro c'è rinunciato c'è rinunciato vai beh sto aggiustando ma che sta facendo questo maestro questo c'ha sevizia più conigli è sicuro 99% no no era quasi buono fa la cura è la miseria è un missile un missile cioè non ha cagato nessuno è un missile questo ci avrà ma questo mi sa che è quello di prima sì ma molto probabile 99% stavolta ha messo il ball ma perchè c'è la macchina? io sento il suo raggio a mille e non c'è e c'è tutto un insieme di cose ecco ma che scherzia? tutta questa partita qualcosa di molto molto strano è arrivata a scuro aspetta aspetta è bloccato quente non ti fa curare niente sta partendo la carta aspetta aspetta io ho ancora qualcosa a mille non si capisco niente aiuto beh buh vabbè se ha qualcosa che non è meglio che fa questo c'è il gingo burro a non venire qua c'è questa stupida zarina con la forza ma non serve a niente ovviamente questo c'è il gingo burro ah non vero niente qua eppure quello di prima non era ben gonciato, quindi non è che capisco forza brutta la 2, gioca col c-ballone non c'aveva anche in glow, cos'altro c'aveva? è molto simile, non di competenze ma è simile, io ho ancora il suo raggio a mille, quindi non so quando sta arrivando e quando no ma che ci fai qui ma non ti sto neanche a guardare, non ho capito ah stai accumulando i token su di me? probabilmente per fare i figli di gonzalez ah dai che? cosa che 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 ma non stai accumulando tu? è passi o non passi? ecco appunto guarda come vuole perdere il token guarda come fa più di gonzalez guardalo 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 come se ne vuole andare guarda come se ne vuole andare ma tu non fai... non fai... non fai ma sei stato divertito proprio eh dai mentre te lo tieni stiamo facendo un po' di generale guardalo ah addirittura è talmente tanto veloce che manco il palle sul risparterà dovevi buttarlo all'inizio eh non pensavo fosse così veloce ha visto cosa ah ah ti sta facendo male perciò ah hai capito adesso si tiene i token è una tomba un po' particolare adesso qui c'è i token capitano io continuo a sentirlo al massimo io non so dov'è vabbè no non è quello di prima sono due oh oh ah mazza che affonda 3 km tutta a me l'amore non vado a fare Secondo me c'ho amore, niente, ha cambiato idea. Era ovvio che lo voleva fare con un punto un po' più vicino. Sola macchina. Ok. Non so come descrivere questa partita. Questi due non so che cosa stanno a fare. Questo Maier si è simile a prima, fa cose strane e c'è cose incredibili. Questa è la prima partita. Il GG me lo voglio caricare allo stesso. Adesso facciamo la partita con le altre competenze. Quindi. GG. E ci vediamo alla prossima partita. Ok. Clicchiamo per la seconda ruota. Vediamo qual è la prima competenza. Vediamo un po', vediamo un po'. Qui c'ho già Sebi pronta la seconda ruota. E parentela. Oh, era vicino un getto di ossessione ma tanto non l'ha preso. Comunque quindi. Tè. Perché l'ho appena usato. Prima competenza parentela. Vediamo qual è la seconda. Perdi le stappe eh? No, che schifo. Avrei preferito provare il cavallo. Premunizione fa vomitare. Ma che competenza è. Che schifo. Ma proprio schifo. Dai, nuova energia non è male. Solo che devo trovare un cristiano da curare due volte. Io io. Non chiedo niente di che. Due volte per due situazioni. Vediamo qual è l'ultima. Vediamo, vediamo, vediamo. Balla con me eh? No, auto apprendimento. Ok, questa non è male competenza. Vabbè, sì, avete capito. Tocca a me. Ok, adesso metto un attimo le competenze. E ci vediamo tra poco. Eccoci qua nella seconda ruota. Queste sono le sue quattro competenze. Vediamo un po' che cosa ci sta. Ma le tue? No, no, che sta a dire. Queste sono le tue adesso. Ah, quelle che devono arrivare. Ok. Allaccia le cinture. Ecco. Come prima competenza. Fa un po' cacca. Ma leggermente. Però non è male. Poi ci farò anche un video su una birte che stavo pensando. Insieme alla tua roba. E ce l'hai tu? Eh, non fa niente, no. Non fa niente. No, abbiamo sempre fatto che quelle che hai tu non posso avere io. Vabbè. Niente nuova energia per lei. Non è male come competenza. Ne potevamo approfittare. Con la scusa. Vediamo qual è la seconda. Eh, niente. Eh, vabbè. Come non detto. Ecco, sarebbero uscite le due cose uguali. Vediamo un po' adesso. Se si può sapere la seconda competenza. Questa è? Sì. Sprint, sì. Mi ricordo che l'hai già usato, però non mi ricordo quando. Beh, se è alla prima ruota va bene, non me lo ricordo quando. Boh, vabbè. Ce l'hai messo lo sprint? Vai. Ok, vediamo per la terza competenza. Cura di sé. Ah, che bello! Ok, cura di sé. Terza competenza. Giusto? Si, manca l'ultima. Vediamo l'ultima. Qual è? Anche perché se usciva a convalescenza bisognava girare altri mille volte la ruota. Medal of Men. Mamma mia che roba! Il coraggio dell'uomo. Ultima competenza. Ok. Finito sto casino. posso andare qui queste sono le quattro competenze adesso ci rivediamo in gioco e poi ci vedremo dopo avervi spiegato se c'è qualcosa di nuovo in partita ok eccoci qui asci potresti mettere un po più dritto grazie allora auto apprendimento si parte appunto con la prima competenza credo di avervela già spiegato una volta ma praticamente ci sono dei test che man mano vi danno sempre più roba fin quando praticamente un test da tipo 45 o 60 per cento di barra che è fortissimo quando si porta al 5 poi c'è nuova energia che anche questo in teoria vi ho già spiegato perché ci ho fatto una build mi permette appunto di curarmi dopo un po di tempo ma prima richiede una cura poi ci sta parentela che in sintesi anche questo ve l'ho già spiegato permette di vedere quando io sono nel gancio permette di far vedere tutti a tutti e invece quando uno è appeso io posso vedere tutti questo dovrebbe essere la traduzione poi ci sta spiegato pre munizione si chiama spiegato quando io guardo fino a un massimo di 36 metri in un cono di 45 gradi la competenza mi si accende e in più mi fa anche un urlo per farmi capire che si è attivata e c'è un tempo di ricarica di 30 secondi quando guardo nel raggio del killer praticamente più che nel raggio nella direzione si attiva e cosa fa sta combattendo vabbè adesso ci vediamo in partita tra poco con sta roba un po a casaccio ok sta per essere la seconda partita con i parks diversi vediamo un po come funzionano le storie sono due claudette una che lei si è portata la torcia si gioca macmillan niente mori ho messo questo ci vediamo in partita ok caricamento finito vediamo tra quando inizia la seconda partita e quale kill dobbiamo affrontare quale nelle tenute siamo alla ferire del tormento avrei preferito la torre la torre di carbone allora finalmente non ho più giusto la sessione che tutte le partite che ho fatto tutti i killer stealth c'è il senso dov'è scusa oggi mi pare di aver visto un ghostface ho visto qualcosa camminare basso era un survivor o era ghostface lei mi si è attivata la competenza però non ho capito c'è un altro mayers non è possibile attenzione ma non ho capito puoi staccare attraverso la costruzione allora ho appena visto il pallet della 4x4 andare via grazie a kate ah almeno lui passa subito ma come sto ora che era il suo figlio di carolta madonna kate non sa giocare vabbè se mangiate il pallet non sa giocare non sa giocare kate sta completamente fuori tutto è stesa ma niente porta in me ma va bene qua sopra non va bene ma torce a giallo eh vabbè ha visto te ma chi ce lo porta qui sopra ma che ci fai che ci fai qui sopra non so io non sono riuscito a saltare non so perché mi sono bloccato e adesso sono morto eh adesso però mi ha preso ora con c'è il ritardo mi ha preso piano piano stai giù eh secondo te ti prende ma non lo so intanto lui sta andando a cercare l'altra gente vabbè ma stai fermo mi tolgo da io stai vabbè chiami cura puramente tu che stai seguendo c'è luce morente è una cosa istantanea la cura ma guarda qua ma è viola almeno ma che ne sono ti ha messo posso passare un attimo? eh sì c'ho lo sprint non ve lo spiegare oh questo sprint è stupido sentite la musichetta fa niente è veramente ti ha buttato giusto per ecco là che lo sento di nuovo dove sei ecco là ora mi seguo di nuovo eh sì e tu rifare l'infinite fin quando c'è faccio il gen chi ma che ci fai qui ahii va slozzi un sacco e non vei che deve venire a romper le scatola mei sensor camera se voce strana ma il sento strana ti ho capito che sta venendo questa manata ma che c'è che stai venendo da questa manata ah ma Vabbè insomma, ho buttato la cassetta perché adesso le cassette si buttano come niente. Vabbè, è abbastanza normale. Eh vabbè. Ci insiste probabilmente. Niente, si è fissata. E la consumare, se foda la cassetta da un'altra parte non la prende la torcia. Opa la. Ma che caspita. Ma esiste un germe buono da fare? Ma questo non è male come germe. Oh porca. Opa la. Mamma mi potrei rischiare? Eh ma adesso ti prendo. Così. Perché non sei andata qui nella zona un po' più viva? Eh perché non so dove andare. Infatti lascia terra, non fa niente. Kate è pronta. Sì. Eh va bene va. Proprio tu. C'è la di natura. C'è la proprio di natura. Tu devi lasciare la gente a terra. E basta. No. Trovato a fauve. A fauve tutto a fauve. Vieni, vieni, vieni. Atenzione. No, basta se metto. No, basta se metto. No, no lo sape anche lui. Vieni, vieni da questa parte. Aspetta qua c'è Kate. Allora è calma. Ma ti levi di mezzo? Va via, va via. E se Kate si levasse? Vabbè qua ci sono due palli. Sì, io ti levo. Cosa? Due zoppi. Adesso riesco a prendere una torcia su. Ma tanto non la posso credere. Kate, ma stai scherzando? Fa spari per qua. Ma perché butta il... Adesso deve buttare il mio. No. Così impari. E lei ti dice già? Non frega niente. Non può buttare i pallet in questo momento. E li butta a fennone? No, non ce l'ho fatta. Ah, sei disconnessa! Così impari. Ehm... Tra l'altro l'ho buttata apposta. No Nido, me lo fa apposta sto Myers, eh? L'ho buttata apposta per fare... Per fare la tecnica Kate, ma... Si è disconnessa non l'ha presa in braccio. Guarda tutto questo pezzo di fangheia. Ah, come se non avessi capito. Non so se hai capito cosa è successo. Si, si. Io ero tutta convinta. Faccio la tecnica del... Come si chiama? Si, si è disconnessa. Ha rotto il pallet. E va bene. Complimenti. Sento che si è una rompe palle, però eh. Non ha rispettato abbastanza. Si, va bene. Si è specicato. Io non lo so che sta a fare questo. Ma che sta a fare sto Myers? Posso provare. Se riuscisse almeno... Ah, no, no, no. Non sto capendo niente. Non so che capita qua. Adesso sta stalkerando, vi stalkerà, vi stalkerà. Vediamo se riesco a salvare con la torcia. Niente. Tanto lascia a terra, quindi uno può fare quello che vuole. Avesse appeso un cristiano. Avesse appeso. Qu Aspetta, ho pure autodidatta, giusto, che stanno sui cinghie, però se mi lasciano altri token, se mi rilasso, e vai, tre token, dai curami che ce la faccio morenda, molto rischioso, dai su, ripariamo alla velocità delle luci, mi fai, un casino mi schiava, dai 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 dai, parte parte parte, ok, coda l'onchia a drena luna, l'aclaudete disperata, non sa che cosa fare, perché che tu non sa giocare, ora ci fa fare, l'ha detto purtroppo sta tirando pallet fin più po', perché, ecco perché non c'è più un pallet, è nella calca, l'ha detto dove hai iniziato il capo, vedi, non sa che cambia, in che porta sei? Alla sinistra, ecco, ok, allora vado da prestarti, sempre con molto rischio, ma tanto non appende, non ha appeso nessuno, quindi, io la mia torcia ce l'ho perfetta, non ho potuto fare niente, possiamo andare a aprire questa partita, ah ecco appunto, perché l'ha aperta a 100%? Perché che dobbiamo fare, i polli, le uova facciamo in questa partita, dai dai dai, aperta, ok aperta, ok aperta, oh porca paletta, no no, questo mi frigge, lo puoi affrontare, sì, no no, che ho detto è lì, è viva, non si fa curare, sta facendo, ok, allora io me ne vado, non voglio sapere storia, torciaggiare, mi sono portato, c'è primo russo che non prende in braccio, non si sa che cazzo sta facendo, guardate, c'è anche le ale, è niente, la partita è andata come è andata, c'è la sola, c'è Morenta all'1, questa è la seconda partita, non so che cazzo avrete visto quanto durerà il video, non so manco se riuscirà ad uscire in tempo, questo video perché doveva uscire tra l'altro sabato, ossia il giorno 25, invece non so se riuscirà ad uscire oggi 26 o domani 27, almeno sarei comunque in ritardo, e sarebbe dovuto uscire mercoledì questo video, ossia il 22 credo, quindi sono leggermente incasionato tra i cambiamenti di programma, i problemi di questo, quello e quell'altro non ce l'ho fatta, non so se l'avrete notato, ma tra i pre partita e queste partite abbiamo dovuto riregistrare praticamente adesso, però i pre partita sono un bel po' di giorni, giorni, giorni fa, però le partite invece le abbiamo registrate adesso, quindi adesso torniamo al menu, sto mai, se non si sa cosa, lui c'è Morenta all'1, non appende, ha perso, Kate ha perso perché sei disconnessa, sei stupida, forse sei stufata, si sarà stufata, vabbè, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, sapete YouTube come funziona, mi raccomando con la campanellina, andate a mettere mi piace a vedere i vecchi video che c'è la strage super negativa, fate qualsiasi cosa positiva, in alto a destra ci sono le schede, potrebbero esserci i sondaggi e poi c'è la schermata finale alla fine, spero di non dimenticarmi nulla, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!